A Silvi l'amministrazione comunale ha approvato con apposita delibera di giunta l'istituzione dei corsi di difesa personale che si terranno a beneficio delle donne residenti nel comune costiero. Un'iniziativa che rappresenta l'avvio di un percorso sulla difesa personale della donna che il comune porterà avanti nei prossimi anni. Noi lo consideriamo l'arma più efficace, quella appunto della prevenzione e per cui attraverso dei corsi di difesa abbiamo l'intenzione di fornire alle donne delle tecniche per evitare di trovarsi in determinate situazioni oppure svincolarsi da determinate situazioni. Ciò soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca perché molto probabilmente Giulia ha sottovalutato la persona che aveva davanti. Lei era concentrata piuttosto su di lui che su se stessa, quindi anche un modo per avere la capacità di autodeterminazione e quindi di rapportarsi in determinate situazioni con determinati soggetti. Per queste iniziative il comune concederà l'uso gratuito di una palestra, il patrocino ufficiale e il contributo, una tantum di 2.800 euro. Nei prossimi giorni la società che gestirà il programma farà conoscere le modalità di iscrizione e partecipazione ai corsi, ai quali saranno ammesse solo le donne di Silvi dai 18 anni in su anche attraverso i canali social. Penso inizierà anno nuovo, non prima di anno nuovo, sarà gratuito, un incontro a settimana per quattro mesi. Faccio l'appello a iscriversi e di affidarsi a questa società vasca che è una società molto quotata. Si evadrà di ottimi esperti, tra l'altro devo dire che sono anche gli istruttori, sono anche avvocati, quindi possono fornire anche delle nozioni tecniche, perché sì, difesa personale, però bisogna stare attenti a non eccedere e quindi a finire nell'area di un reato. L'appello come sempre è quello di denunciare un invito rivolto non solo a chi subisce violenza, ma anche a chi è a conoscenza di situazioni di possibile pericolo. Bisogna denunciare sempre, non sottovalutare mai la situazione, non dire mai che vuoi che succeda, perché i fatti di Crolacolo lo provano questo, che non bisogna mai abbassare la guardia. Noi parliamo di, a parte ieri due femminicidi, ma quello di Giulia è emblematico, sono giovani, sono ragazzi giovani e questo è a quanto allarmante e pericoloso.